Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video, io sono Salvo Pimpos e oggi non siamo alla Domenica Horror ma giochiamo comunque ad un Horror Perché è uscito Mental Hospital 5 Io non potevo aspettare Domenica per provarlo perché sono troppo curioso di vedere di che cosa si tratta Visto che, come sapete se mi seguite, ho giocato praticamente tutti i Mental Hospital dall'1 fino al 4 Quindi se non li avete visti, se non avete visto i video vi invito a guardarveli tutti prima di questo ragazzi Prima di questo perché questo sarà veramente il più figo di tutti sicuramente Alziamo un po' va perché qua, io qua vedo qualcosa che si muove e non capisco che cosa è Quindi iniziamo subito l'investigazione e vediamo di che si tratta Ah questo praticamente è il tizio di Mental Hospital 3 mi sembra Infatti l'ospedale praticamente mi sembra quello, mi sembra quello Sì sì, ecco, adesso mi ricordo il tizio lì morto e disteso per i fatti suoni Poveretto, la squadra speciale, adesso non mi ricordo quello che è successo in Mental Hospital 3 Ma le immagini sono queste Ah questo qua è il 4, bellissimo, ci sta facendo vedere tutto quello che abbiamo passato Perché nel 4 siamo rimasti chiusi in un corridoio Praticamente abbiamo fatto 20.000 livelli nel 4 chiusi sempre nello stesso corridoio E questo no, it's time I have to start my journey Questa croce è qua al centro, già inizio il gioco, non è che mi piace Cioè già così iniziamo, con queste cose brutte Salve, c'è stato un rogo praticamente È stata crocifissa qualcuno, qualcuno Ah, negli scorsi Mental Hospital eravamo inseguiti da Alice Adesso Alice si è trasformata in Elisa E che è sua figlia Ma qua tutti mi perseguitano, porca la È praticamente qua, non so C'è stato un rogo, buh, andiamo avanti Vediamo, io alzo la luminosità Qua non vedo niente ogni volta Chi è un'altra? Ah, chi è quella? Vediamo chi, vediamo che, che succede Si apre la porta Ah prima, ho paura Oh, chiusa Ma è, è viva, cioè è umana Chi è? È umana o C'è un fogliettino Dov'è? Si è andata Oh, oh non è che mi viene da dietro Che so, è anguria Si è aperta Aiuto Signora non mi faccia del male Signora non mi faccia del male Corva, ma porca Corvaccia di merda Che cacchio c'è qua Qualcuno di notte camminava vicino La porta della mia casa Sentiva il suo battito Ma baffa Ma chi cacchio vuole? Che cacchio vuole da me? Apriamo il cancelletto Apriamo il cancelletto Chiuso il cancelletto Tizio scavalca Tizio è un cancelletto alto Nemmeno un metro Puoi scavalcare benissimo Qua c'è niente No Andiamo Ah qua c'è la telecamera Ma forte Forte abbiamo la telecamera Si con le batterie che si scaricano però Già mi sono bloccato all'inizio del gioco Qua che c'è? Ah una porta Una porta Una porta Non l'avevo vista sta porta Salve Oh Che abbiamo qua? Batterie Batterie quindi presumo che dobbiamo utilizzare la telecamera Quindi Ma per fare che cosa? Eh E chi ha aperto il cancello? Chi l'ha aperto? Aiuto ragazzi Questo è pauroso Chi ha aperto sto cancello che prima era chiuso? Gira solo i così alti sono Quanto fertilizzante gli date Anguria al posto delle zucche E procediamo Che è? Che è? Così girano solo le cose Che facciamo l'escursione nei campi? Non l'ho capito Una zucca Ecco adesso la zucca è pastra Il corvo di prima maledetto E la zucca di Halloween Ciao Ciao che sei carino Ciao Una ruota di carretto Vabbè Poi seguire No No Questo mi era perso già in mente all'ospital 3 Mi sembra Ste ombre maledette Che è un dondolo Ah la porta La porta Che non ci va Ho scavalcato Ho scavalcato Tizio no Forse dovevo Ma che cacchio fai tizio? Ho scavalcato È normale Mi sono evitato uno jump scare L'ho preso dall'altro lato L'ho preso dall'altro lato Fa niente Entriamo dalla porta Corvo Non ci sei vero Corvo? No Sono tutto uguale Quale Caspero Salve Batterie No Una Una batteria Più Un piede di porco Che non prende Il tizio Tizio C'è un piede di porco Perché non lo prendi? No ma sei cretino proprio Cioè Sei qua solo C'è il mondo Là fuori C'è il mondo Che ti ammazza E tu non ti prendi A me il piede di porco Uno scantinato Vediamo che c'è Nello scantinato Chiuso E mi servirebbe Il piede di porco Se il tizio È tanto intelligente Che l'ha lasciato là Che è colpa mia Niente di che Chi è? Ma sempre Sempre bambini No Non mi piace I bambini che piangono Nei giochi horror Aiuto Aspetta Fammi entrare Chiamo a tuo padre Chiamo a tua mano Non lo so Che cacchio ci piangi Che qua mi fai Mi fai paura Qua non posso entrare Bimba Non posso entrare È tutto sigillato Ah qua è aperto Qua Chi è? Il bambino Ha smesso di piangere Oh paura Che gli è successo Il bambino È pure chiuso Qua È pure chiuso È tutto chiuso In questo gioco È tutto chiuso Una villa Porca la popazza Che villa gigantesca Che Sarebbe l'ospedale Questo? Il nuovo ospedale? Praticamente passeremo qui Tutti gli altri episodi Di mental ospedale Cinque Fantastico Bellissimo Fantastico Bellissimo Vado di qua L'apro Chiusa Ti pareva E ti pareva Se era aperta Chi è? Ma Mi sembrava un tizio Mi sembrava E questa sarà pure chiusa Sicuro Chiusa E com'è entro? Volo Che dite? Volo Ah di qua c'è un'altra via Vediamo che c'è di qua Un'altra volta Vediamo se si entra di qua Vai vai Tizio Entra tizio Che è? La porta è chiusa Yeah to find the way to inside Che cacchie è successo Pure l'allarme Che cacchie è successo Sono io quello Che è quello là? Aiuto Sfortunatamente la porta è chiusa Devo trovare la chiave O qualcosa Che possa aprirla Te ho ispezione Più attentamente il villaggio Vuoi vedere che adesso Il piede di porco se lo prende Sto bastardo Te l'ho detto poco fa Di prendertelo Perché non te lo sei preso? Dovevo tornare indietro Che è un fogliettino qua? Ho paura Chi era quel coso là sopra? Se senti la sirena Corri Vai via dal villaggio La morte incomberà su di te E niente Ripeto Niente Ti aiuterà Oh porca mia E devo andare al villaggio Che facciamo? Ma c'è più qualcosa Allora no Non c'è più E che devo fare? Devo andare al villaggio Quello Che è? Ragazzi Non c'è più la sirena però Non c'è più la sirena Buono ma il male Quindi possiamo andare al villaggio Che è? Che cacchio è sto coso qua? Ora come faccio? Sei un cretino tizio Avevi il piede di porca A portata di mano No Non te lo devi prendere tu Perché sei un cretino Ora che facciamo? Ora che facciamo? Vabbè che questo tizio è lento Perciò credo di poterla girare Ma poi che faccio? Che tutte le porte sono chiuse Ma mi vedi? Mi vedi vero? Sì Bello sei Ma dico mettitelo un paio di mutande Dico mettitelo Non è che L'horror sei tu secondo me Perché sei nudo Ok Aggiriamolo E dai Ma ti smuovi Ti smuovi che è davanti Corri Corri tizio Corri Via 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 Ok ha girato Ora la porta è chiusa Però come faccio? Ma qua è pieno E qua è pieno Tranquilli Tranquilli Che io non sono qui Andiamo di là Andiamo di là Veloci 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 Devo trovare qualcosa Per romperla Ma dai Ma te lo vuoi prendere Sto piede di porco Tizio Ora mi incacchio Veramente C'è altre ore Che passo da quel cacchio Di piede di porco E non se lo prende E ora deve trovare Le cose per rompere le porte Ora Ora gli rompo la testa io Ah ora te lo prendi Ma quanto sei bastardo Quanto sei bastardo Veramente Ma quanto Dico io Ma io se fossi disperso qui Ma la prima cosa Cioè vedo un piede di porco Che fa lo lascio No ma veramente Ma veramente Ora dove cacchio era la porta Questa questa Avanti Apri qua Tizio maledetto Che sei Apri qua Usa 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 E rompi tutto Avanti Avanti Che qua c'è la chiave Salve Chiave Eh chiuso Non dico che è chiuso C'è Non c'è niente C'è Ho scassinato una porta Per niente Che è sta cosa C'è ma c'è la chiave Non si vede la chiave Oh ma non si vedeva la chiave Non si vedeva Sta cacchio C'è Casualità Casualità Ok dobbiamo Adesso possiamo andare all'ospedale Fantastico Prima mi devo ricordare dove era Via via Corri 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 Via Via Vai che ce la possiamo fare Ho sbagliato pure strada Vaffanculo Vai 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 Corri Corri Tizio Corri Corri Ok Ci siamo ragazzi Ci siamo Entriamo in questo dannato posto C'è tre ore per entrare in un cacchio di ospedale Porca la pupazza Vai Chiuso Ah la chiave Seleziona No non l'ho capito questo No non l'ho capito Cioè io Io ho cliccato la porta Mi ha seguito il tizio dietro E mi ha ucciso Oppure io ho cliccato la porta E dove andare così Domanda Punto interrogativo Mi hai dato una risposta Possibilmente Entro domani Che dite Ce la facciamo Oddio dove cacchio sono Comunque la risposta l'ho avuta Siamo entrati all'ospedale Molto malconci Devo dire Siamo praticamente insanguinati E credo che siamo all'obitorio Infatti ci avevano spacciati per morti Ma credo Ma praticamente No Siamo sopravvissuti Non so come Ma siamo insieme ai cadaveri Quindi ragazzi Fantastico Abbiamo iniziato una nuova serie horror Spero vi piaccia Quindi lasciate tanti like Se volete che continui Questo Mental Hospital 5 Vi ricordo di poter seguirmi Anche solo a Facebook Twitter Instagram Tutti i social In cui trovate il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto Al prossimo video Oggi siamo su Roblox Ma l'avete chiesto tantissime volte Ed ecco finalmente Roblox Tizio io seguo a te Qua sto arrivando Sto arrivando Non ti incazzarvelo Sto arrivando Ti difendo io Ti difendo io Bra bra Mi devi una cena Grazie a tutti